buongiorno buongiorno a tutti ragazzi come state oggi match day doppio perché come vi dicevo sono in partenza sono partenza direzione milano dove oggi si giocherà milan juventus della youtuber league partita anche decisiva perché da qui uscirà la squadra che andrà a giocarsi la finale la finale incrociata con il gruppo rate vol sud e quindi da bravi juventini proveremo ad arrivare in finale per poi perdere una finale e poi ci vediamo stasera per juventus empoli e stavo ragionando perché prima ho letto la notizia di un cristiano ronaldo fuori rosa contro il cels per aver abbandonato prima la panchina del manchester united nel match contro il tottenham e di una potenziale quindi cessione a gennaio di un cristiano ronaldo che a quanto pare in questo momento è proprio fuori rosa e parlando di cristiano ronaldo e parlando di juventus empoli mi è tornato in mente questo che è il cartello del unice ronaldo che in questo momento è niz ronaldo perché per come eravamo partiti abbiamo tolto il hu e serviva ronaldo e tanti non hanno capito che in realtà il messaggio era questo qua e poi è stato ritoccato con anche vlaovic 7 quando è arrivato a gennaio però il messaggio era questo qua e cioè che la juventus è più importante di cristiano ronaldo perché chi ha seguito i video della questione lo scorso anno ricorderà che ero rimasto molto molto deluso dal comportamento di cr7 e il fatto che che avesse abbandonato che abbia abbandonato poi la juventus in un momento così delicato a fine mercato beh non mi andava giù semplicemente non mi andava giù e volevo cercare di riportarla juventus al primo posto anche nella testa dei tifosi fa strano pensare che questo cerchio si chiude tra virgolette con un altro juventus empoli l'anno scorso era la prima senza cristiano ronaldo ero allo stadio è stata una brutta partita l'abbiamo persa il mondo è cambiato rispetto questo anno e due mesi rispetto all'anno scorso e un nuovo juventus empoli ci ci dimostra che ronaldo non è a suo agio nemmeno in questo momento in inghilterra al manchester united dove ha spinto per il ritorno e speriamo quindi che anche juventus empoli possa concludersi con un risultato decisamente diverso e ribaltato rispetto allo scorso anno io ho sensazioni contrastanti perché secondo me oggi la juve può tranquillamente portarsi a casa il risultato anche se come vi dicevo ieri questa juventus oggi fa probabilmente un po fatica con tutte non c'è una squadra che dice va bene la juventus è favorita no la juve oggi fa fatica letteralmente con tutte le squadre quindi sono abbastanza tranquillo da questo punto di vista proprio perché come diceva allegri ci sono dei valori tecnici differenti tra le due squadre sono un po preoccupato come vi dicevo ieri nel video della conferenza stampa di allegri per quella che potrebbe essere la risposta psicologica della squadra cioè ieri non tanti probabilmente ho sbagliato io forse sono stato io un po troppo duro però tanti l'hanno visto come un attacco ad allegri ma non è così nel senso che quando analizzo le conferenze stampa per partita e lo faccio di ogni partita quindi non è una volontà in questo momento di parlare di allegri l'ho sempre fatto quando sento determinate vibrazioni nell'aria che mi portano ad avere delle sensazioni differenti un attimino l'antenna mi si drissa però è ovvio che non è che dalla conferenza stampa saprà il risultato della partita questo assolutamente no però è abbastanza evidente che in questo momento la juventus vada anche a seguire un percorso a livello emotivo differente e che quindi le conferenze stampa possano darci un'indicazione di quello che sarà il mood con la quale la juventus affronterà la partita e attenzione perché oggi ci sono diverse cose da tenere in considerazione perché da soccerment ho tirato fuori questo report ok è un report questo confronto tra juventus e tempoli per cercare di capire anche in cosa sono più bravi loro in cosa siamo più bravi noi all'interno di una partita questi sono dati tutti riferiti alla serie a e allora dal punto di vista dei gol bene o male siamo lì nel senso che noi non abbiamo segnato tanto in questa stagione ne ho parlato anche l'altro giorno con un video inerente alla fase offensiva della juventus e se non l'avete ancora visto vi invito a andarvelo a vedere sui tiri sui tiri in porta anche lì bene o male siamo lì quindi juventus vanno a convertire allo stesso modo noi facciamo tanti più passaggi però sono anche andato a vedere la statistica dettagliata e noi facciamo leggermente più passaggi dell'empoli nella metà campo avversaria non di tanto ma leggermente ma decisamente più passaggi dell'empoli nella nostra metà campo quindi quella difensiva quindi sì abbiamo più passaggi ma sono anche più passaggi di gestione più passaggi difensivi poi abbiamo dei clean sheet che sono nettamente migliori rispetto a quelli dell'empoli segno che comunque segniamo quasi un po di più ma quasi come l'empoli ma anche subiamo meno rispetto all'empoli riusciamo a salvare la porta in più occasioni quella dei recuperi è un dato speculare tra juventus e empoli quindi aspettiamoci una partita maschia combattuta sotto questo punto di vista perché sono due squadre che lì si mettono alla pari così come la juventus si mette alla pari dell'empoli nei dribbling ne ho sempre parlato l'ho sempre detto negli unico negli uno contro uno noi quest'anno facciamo molta fatica e quindi anche per questo sto aspettando federico chiesa sto aspettando polpo gba perché sicuramente l'uno e l'uno contro uno qualcosa in più lo danno però c'è anche una struttura ad oggi probabilmente che che ti impedisce di essere efficace in questo fondamentale quindi bisogna anche ragionare su questa cosa qui e ragazzi mentre andiamo ad analizzare anche la probabile formazione vi ricordo che questa sera il mio post partita non uscirà su youtube bensì uscirà sul numero 10 quindi ricordatevi perché se stasera non vedete il mio post partita sul canale è sul numero 10 scaricatelo gratuitamente dal primo link in descrizione e poi stasera sul canale faremo un'altra tipologia di video lo scoprirete stasera e intanto scaricatevi l'applicazione perché oltre al post partita l'altro giorno ho pubblicato anche un articolo inerente proprio a chiesa pogba e quindi andatevi a leggere un po le mie parole le mie opinioni scaricatevi numero 10 gratuitamente dal link qui sotto in descrizione e parlavamo di formazione no e quindi ora di ragionare anche sugli 11 che andranno in campo perché secondo sky sport dovrebbero essere questi ora io li ho schierati sotto una sorta di 352 perché immagino penso posso pensare che si andrà ad inseguire quello schieramento che aveva comunque tra virgolette funzionato col torino ribadisco a me la partita col torno non ha fatto impazzire però la vittoria è stata meritatissima meriti juve de meriti toro scegliete voi la percentuale però il 352 mi era sembrato comunque un abito adatto a quelle che erano le caratteristiche momentanee della juventus io non sono amante del 352 non sono amante della difesa 3 non sono amante della difesa 3 per questa specifica formazione ma finché non tornano appunto chiesa di maria e pogba beh potresti cercare di difenderti con questa linea da 5 anche se poi la juventus in realtà difende con due linee da 4 e infatti come potete vedere alexandro potrebbe scalare a terzino sinistro bonucci gatti difensori centrali quadrado abbassarsi solo nei difensori meccani allargarsi a destra e formare ancora una volta il 4 4 2 storto comunque il 4 4 2 in fase di non possesso quindi potremmo essere schierati col 352 così come potremmo essere schierati appunto con il 4 4 2 storto non è da 4 3 3 questa formazione a meno che poi non lo costic faccia l'esterno sinistro e ken l'esterno destro nel tridente cosa che dubito francamente però mai dire mai perché poi tutto può accadere bonucci al posto di bremer infortunato ne avrà per una ventina di giorni e gatti al posto di danilo che in questo momento probabilmente dovrà riposare io ancora una volta insisto su sullo stesso tasto mi dispiace non vedere paredes locatelli insieme mi dispiace ragionare di uno in funzione dell'altro mi dispiace non vedere ancora una volta mirette preso in considerazione queste sono cose che purtroppo un pochino mi dispiacciono devo dire la verità perché sono convinto che paredes e locatelli insieme riuscirebbero a dare qualcosa in più negli ultimi metri un po come era accaduto l'anno scorso quando si era iniziato a giocare con artur e locatelli insieme che davano un'opzione in più semplicemente anche negli ultimi metri perché locatelli era più libero era aveva abbandonato un po quei compiti di regia anche nell'abbassarsi tra i due centrali per cercare di dare un'uscita in più a quello ci pensava artur e locatelli negli ultimi metri invece aveva iniziato ad aiutare era la juve intorno a gennaio mi pare una volta con la roma una volta con la sam doria mi ricordo quella partita in coppitalia con la sam veramente artur locatelli avevano fatto ribaltato completamente il modo di intendere il centrocampo come l'avevamo visto fino a quel momento nella stagione e c'erano stati tantissimi tocchi tantissimi passaggi tantissimi scambi dialoghi e da lì si era vista anche una juve più propositiva una juve più offensiva una juventus più convincente quindi mi dispiace non provarci nemmeno ad avere quell'opzione lì semplicemente perché poi probabilmente ti vuoi difendere con le due linee da 4 quando in realtà col 3-5-2 potresti difendere 5-3-2 e basta ma conoscendo allegri la difesa 5 allegri è sempre difesa 5 sempre solo nei momenti di difficoltà cioè quando c'è nei momenti di difficoltà nei momenti in cui la partita doveva finire quando si rende conto che il risultato è acquisito allora cosa fa? Toglie un giocatore offensivo, mette dentro un difensore, passa a difendere a 5 perché rinuncia completamente magari alla fase offensiva e cerca di portare a casa il risultato pensando a quella che è stata la storia di Allegri con la juventus questo è stato il suo modo di difendere a 5 perché anche quando si giocava 3-5-2 poi magari la scalata per la difesa 4 era presente quindi insomma è una cosa che fa lui, è una cosa sua e quindi va bene così però peccato perché ti togli un'opportunità, un'occasione di sfruttare in maniera importante anche i giocatori di qualità che hai a centrocampo che hai all'interno della rosa e che hai disponibili e questo probabilmente toglie anche qualche palla a gol agli attaccanti che a quanto pare saranno confermati Ken Vlaovic esattamente come col toro l'anno scorso Ken Vlaovic a Empoli aveva risolto la partita, ricorderete, pare doppietta di Vlaovic e gol di Ken la grande domanda che mi faccio è ma Milik in questo momento come sta? perché è la terza panchina consecutiva per Milik, poi è ovvio che martedì c'è il Benfica e quindi magari si ragiona anche in funzione del turnover però non vorrei mai che Milik avesse dei problemi e che questo minutaggio ridotto che gli sta riservando l'allenatore fosse appunto in funzione di uno stato fisico non eccellente perché noi di Milik abbiamo discretamente bisogno quindi spero che possa stare molto molto bene e quindi ragazzi questa è la formazione, questa dovrebbe essere la formazione fatemi sapere un po' anche le vostre impressioni, fatemi sapere anche su Gunista Ronaldo se anche voi avevate pensato da Juventus Empoli a Juventus Empoli e ti fate per noi oggi pomeriggio a Milano contro il Milan e noi ci vediamo stasera in live su Twitch e poi tutti gli altri contenuti non il post partita che uscirà sul numero 10, qua ci sarà un altro video Grazie a tutti